In questo frangente gli allenamenti non c'entrano nulla, però vi chiederete sicuramente perché ho la cintura di campione del mondo di Pugilato e soprattutto perché sono davanti a questa porta e io ve lo faccio vedere. Questa è la porta della casa di Piero della Francesca, uno dei più grandi artisti del Rinascimento, ma soprattutto un artista di Sansepolcro. Io sono felice di essere cittadino di questa città e soprattutto del fatto che un grande artista di questo calibro sia nato proprio in questa casa e per questo motivo mi sento di dedicare a lui la vittoria del mio titolo mondiale di Pugilato. Grazie a tutti.